Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi dei Cubi Ragazzi siamo qua a casa nostra, non siamo nella nostra giungla Perché dopo aver guardato le coordinate e la bussola che puntava verso una direzione Ho capito di essere molto vicino a casa nostra, o meglio lo spawn Infatti ho scoperto che attaccato alla mesa, quella mesa che abbiamo qua vicino a casa C'è appunto la giungla, quindi all'incirca in quella direzione molto vicino c'è la giungla Ragazzi noi siamo andati in tutte le direzioni, questa, quella e questa Noi non siamo andati là, l'unica direzione in cui noi siamo andati appunto è quella dove appunto c'era la giungla Quindi è stato veramente un fail assurdo ragazzi Comunque in questo episodio faremo la stessa cosa che avremmo fatto se fossimo restati nella giungla E ovvero andremo a minare come vi avevo promesso Allora qua ho un bel po' di roba Che adesso andrò anche a mettere a posto, ok? Devo fare un paio di farm adesso, me lo scrivo sul mio carissimo libro E appunto devo andare a fare una farm di carote Di, oddio, carote Di meloni E una farm di fave, di cacao Oh beh, scrivo cacao Cacao, perfetto Il mio promemoria funziona sempre Che qua adesso dormiamo Adesso appunto dovremo incantare un piccone prima di partire e andare in caverna Perché, oddio, mi sto glitchando nella cassa Comunque andiamo a creare il nostro piccone In diamante Adesso perché bisogna cominciare a fare delle cose un po' più seri Eccolo qua il nostro piccone Ho già 30 livelli con me Li ho appena finiti di fare poco fa Qua la roba si sta smistando No, ha già finito Perché ho portato a casa un po' di risorse E qua appunto continuerò poi con lo smistamento Andrò a fare il legno E il sapling Tutti gli alberelli E anche il legno è lavorato Ma questo qua lo farò più avanti E off camera E adesso appunto andiamo prima di tutto a incantare il piccone Allora ragazzi Il piccone lo incantiamo qua appunto E voilà Incrociamo le dita Ok Ok, volevo questo ragazzi Volevo questo di piccone Fantastico Qua prendo giusto un po' di cose Ok Perché siamo Ci sono tante cose qua Tante casse che bisogna come al solito mettere a posto Comunque ragazzi Direi che ci vediamo tra poco in caverna Ok ragazzi Rieccoci Ho dimenticato di mettere a posto le canne da zucchero Mi sono appena accorto Ma pazienza Sarà solo uno slot in più in alimentario Non è che sia tanto un problema Comunque adesso scendiamo qua sotto ragazzi Ok E andiamo a scavare Allora Ho qua il mio piccone Adesso logicamente questa parte la taglierò Farò un lungo corridoio Non più in quella direzione Perché ormai è diventato troppo lungo Andrò in questa direzione stavolta E appunto Andrò avanti un bel po' Finché non troverò qualcosa A queste profondità Ecco come vedete È molto facile trovare dei minerali E appena trovo qualcosa di interessante Soprattutto una caverna Perché io voglio esplorare una caverna vera e propria Riapro la registrazione E appunto Cominciamo con la vera e propria esplorazione Qua preparo le torce Perfetto Ogni tot blocchi Andrò a posizionarle Quindi ragazzi Non mi resta che Prenda il mio piccone E con tanta pazienza Cominciare a scavare Ok ragazzi Eccoli qua Già dei minerali Abbiamo della redstone Ok Che prendiamo col piccone Con fortuna E del loro Farò tanti piccoli pezzi Dove raccolgo i minerali Appunto Di cosa ho trovato Per velocizzare Al massimo L'operazione di raccolta Almeno finché È a queste profondità Ok Qua prendiamo ancora la redstone Il carbone e il ferro Li taglierò Ecco in questo caso Appunto lo taglierò Quindi continuo Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Sì ho trovato qualcosa Di interessante Un dungeon ragazzi Un dangeino Uh Uh Eppure Eppure in alto Cavolo Eh sì Sarà un po' un casino Adesso riuscire A entrare lì dentro Ma ci riusciremo Ci riusciremo Ehi baby zombie Non ti allargare Sì c'è un po' di gente Ho notato Sì l'ho notato Grazie Uh Un villager Ragazzi Ho un'idea Per questo dungeon Assurda Però adesso bisogna Uccidere un po' di gente Allora morite Grazie Oh calma Ok bloccato Almeno credo Spero Ok Uh lì c'è pure Della lava Ragazzi Questo dungeon Sarà una miniera D'oro Veramente Una miniera Anzi se vogliamo Proprio dirlo Di smeraldi Eh sì Forse avete capito Che cosa voglio fare Con questo dungeon Ve lo spoilerò Già subito Ragazzi Sarà un progetto Molto semplice Uh Delle name tag Dei dischi Molto bene Comunque Qua c'è poi Del loro Eccellente Ve lo spoilerò Già subito Tanto non sarà Un progetto Molto lungo Forse potremmo Già farlo Adesso Ho intenzione Ragazzi Di andare a fare Da un villaggio Vi spiego meglio Ehm Ho visto Lo metto Non è un'idea mia L'ho visto Da Hinton's Lab Che è un youtuber Americano Molto molto bravo Ehm Ho visto Che ha costruito Da un dungeon Di Ehm Zombie Una specie di Ehm Generatore di village Di villici No Ehm E' molto semplice Lo andremo a fare Penso in questo episodio Sto punto Perché è veramente Una Cosa molto figa E Cioè Veramente è già fatto Adesso vi spiegherò Come funziona Allora andiamo a prendere Del C'è il nostro piccone Con fortuna Perché qua c'è della redstone Ok Allora vi spiego E' veramente molto semplice Ripeto Allora Praticamente funziona così Quando noi abbiamo Questo Dungeon Sbloccato Ehm Si Anche bloccato Scusate Si spawnano comunque Dei mob Infatti penso Che tipo Se adesso qua Spengo La luce Ok Spengo la luce Un attimino Si dovrebbero spawnare Dei carissimi Zombie Alla dietro Vabbè Adesso non succede Giustamente Perché quando uno parla Le cose non succedono mai Però dovrebbe succedere Appunto Che si spawnano Degli zombie Andiamo un pochettino a vedere Non se ne spawnano Neanche uno a pagare Però Credetemi che appunto Si spawnano comunque Dei mob E noi appunto Terremo Tutta la zona illuminata Al massimo Permettendo Lo spawn Degli zombie Solo Nelle zone In cui vogliamo noi Poi andremo Con il materiale Opportuno A trasformarlo Comunque praticamente Noi avremo Degli zombie Villager Già Intrappolati E Credetemi che sarà Una cosa molto Figa Adesso poi ve la farò vedere Comunque direi che Ehm No Non so se lo faremo In questo episodio Bisogna Bisogna vedere un attimino Ragazzi Adesso Principalmente La mia attività Sarà questa Ovvero Ripulirò Questa zona Del carbone E andrò A Diciamo Scavare Ancora un pochettino Non qua Sicuramente Perché appunto C'è già La nostra carissima Farm O meglio Il nostro carissimo Dungeon E con questo Credo che L'abbiamo trovati tutti Fatemi pensare Allora abbiamo Scheletri Ragni Zombie Sì Direi che L'abbiamo tutti Finalmente Abbiamo trovato Tutti quanti Dungeon E questo Anche se non è Un obiettivo È un obiettivo No scherzo ragazzi Però abbiamo trovato Un dungeon Di zombie Eccellente Sono molto contento Ragazzi Cosa posso dirvi Se non di avere Ancora un po' di pazienza Continuerò a scavare E poi Se appunto Il tempo Che ho a disposizione Lo permetterà Oddio Magari non di qua Se il tempo Che ho a disposizione Lo permetterà Andrò anche Perché no A Come posso dire Creare questa Costruzione Comunque Sì Per chi Me l'ha già chiesto Seguo anche Youtuber americani Visto che Me l'avete chiesto In parecchi Seguo anche Youtuber americani Come quello Che ho Appunto Citato poco fa E Niente ragazzi Questo Questo è tutto Adesso direi che Mi faccio un pochetto Un paio di torce Ok E niente Continuo con l'esplorazione Ragazzi Ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci Ho trovato Del bellissimo diamante Questo qua Si è lo scopo Dell'esplorazione Ok Qua abbiamo lasciato dietro Un po' di cobblestone Adesso andiamo a raccogliere Il diamante Ecco Questo qua è un minerale Che direi che è da registrare Si Direi proprio di si Allora Mangiamoci un pezzo di pane Così abbiamo altre slot Nell'inventario E Ok Quindi andiamo a Prenderlo con il nostro piccone Con fortuna Oh Già tre Molto bene E Bene Vediamo quanti ne troviamo Ok Sono già sei Vediamo se ce ne sono altri Nelle vicinanze E direi proprio di No Però comunque sei È già buono Beh io continuo E ci vediamo tra poco Ok ragazzi Eccoci di nuovo Altro diamante Che culo E comunque Si non ho detto che culo Ho detto che culo E Non ho preso uno per sbaglio Col piccone Che non aveva fortuna Ai 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 Non me lo perdonerò mai E Quanto ce n'è Mamma mia Qua ce n'è un bel po' Ragazzi Direi proprio di si E Mamma mia Se ce n'è 21 diamanti ragazzi Sì sì Eh direi che già Questo piccone Che ci siamo fatti Ce lo ripaghiamo E anche questo qua Che si sta per rompere Penso Ma perché lo sto raccolendo Col piccone sbagliato Non lo so Comunque anche questo qua Di diamante Che si sta per rompere Penso che ce lo Ripaghiamo E Ragazzi Ho pensato Ho pensato un attimino E direi che Andremo a fare Appunto Quello che ho detto Ma lo andremo a fare In maniera Leggermente diversa Perché non voglio Assolutamente copiare Uno youtuber Completamente Voglio Almeno Se non migliorare O aggiustare Voglio comunque Cambiare La costruzione Quindi direi che Appunto Sono costretto A elaborarlo Un pochettino di più Il progetto Quindi non posso Di certo In un episodio Riuscivo a far tutto Direi piuttosto Di cominciare a parlare Con voi Di un altro progetto Ovvero La farm di blades Allora ragazzi La farm di blades Ehm La farm di blades Bella cosa ragazzi E perché parlo Già di farm di blades O non di end O cose così Perché la farm di blades Ci darà le blades rod Infatti Tutta questa cobblestone Che sto raccogliendo Che fine farà Andrà ad accumularsi Con tutta L'altra cobblestone Che ho A disposizione Nelle mie casse No qua c'è D'altro ferro A proposito Comunque appunto Si andrà a unire Tutta quell'altra cobblestone Come ho detto Ehm E quindi che cosa Che cosa dovemmo fare noi Oddio Qua sono di nuovo pieno Devo buttar via qualcosa Butto via Questo persigrano Che è inutile Ok Comunque continuiamo Dicevo appunto Che tutta questa cobblestone Andrà a unirsi all'altra E io la voglio far diventare Ehm Mattone Per far diventare mattone Voglio utilizzare come combustibile Un combustibile che Ehm Appunto Vuole avere un combustibile In gran quantità Per appunto Cuoce tutta questa cobblestone E voglio che questo combustibile Sia la blaze rod La blaze rod Per chi non lo sa Cuoce Se non sbaglio Più di Ehm Più del carbone Credo addirittura Il doppio Ehm E si cuoce molto 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 Quindi un quarto Di un secchio di lava Ehm E si trova in gran quantità Cioè si trova in gran quantità Con una farm di blazing Avremo in gran quantità Guardate già solo di ossa E frecce Quante ne abbiamo Con una farm di Ehm Di scheletri E potete solo immaginare Con una farm del genere A che livelli potremo arrivare Comunque qua Butto io della terra E continuo Ehm Niente ragazzi Ehm Ho già una farm pronta Ve la andrò appunto A far vedere in questo video Ehm Però adesso finiamo appunto Diciamo L'operazione di Ehm Scavo Qua abbiamo della resta A proposito E quindi Continuo Con appunto Questo lavoro E ci vediamo tra poco Oddio ragazzi Non ci credo Altro diamante No Questa è veramente Un colpo di Cuore Ehm Andiamo a vedere Il nostro record è 31 Vediamo un attimo Se lo superiamo Sì ragazzi Abbiamo superato il nostro record Di un episodio Un mondo di cubi Season 1 Ancora Sì Uso pure le parole inglesi Mamma mia I am very pro Comunque Ehm Ok 34 diamanti 34 diamanti Ragazzi Oddio Ehm Sì Sono veramente tanti Beh io continuo Perché ormai mi sento fortunato Ok ragazzi Eccoci Ho fatto una piccola cassa Dove ho buttato dentro Giusto un paio di cose inutili Come la ghiaia e la cobblestone E a proposito Oppure Ho incontrato un carissimo zombie E un carissimo scheletro Che adesso vado a Appunto buttare via i loro drop E questi tizi Che cosa mi hanno droppato Mi hanno droppato Uno mi ha droppato una carota Ma dov'è che li ho incontrati E li ho incontrati In una caverna Qua vicino Guardate un po' Tatan Finalmente una caverna Si direi che appunto Adesso la esploriamo un pochettino Qua c'è già del ferro Che prendo Ok Sì mi piace un casino Esplorare le caverne così Ragazzi Sì voluto a queste profondità Perché C'è La Un'alta possibilità Di trovare altro diamante E di trovare anche altro creeper Non sarebbe per niente una bella cosa Trovare un creeper Con 34 diamanti In inventario Quindi Uh 34 diamanti Però adesso Vuol dire che Potremmo anche farci Un'armatura completa No L'armatura completa La faremo quando abbiamo finito La farm di blades Almeno potremo anche Dedicarci Tra virgolette Alla Cos'è quello a fare là Cos'è Ghiaia O cobblestone Perché se trovo un altro dungeon Mi spavento No comunque è Ghiaia E Appunto Quando abbiamo finito la farm di blades Mi dedicherò Alla costruzione Cioè Alla Creazione E all'inchantamento Possiamo dire L'incantamento Delle nostre carissime Armature Ok Qua Non c'è un dungeon Bensì c'è una Specie di conformazione Di lava Oddio Sì qua Non riesco a risalire Maledetta Maledetta acqua Dai Tappati Ok Fammi passare Thank you Perfetto Sì Io ci parlo inglese Non so perché Vabbè E beh Parlare inglese E dire thank you C'è un po' di differenza Là c'è già un ragnaccio Due ragnacci Un creeper E due ragnacci Ok Ancora qualcuno Ti offre di più Ok Vieni qua Stupido ragno One shotati Mamma mia Spaventati proprio Allora qua c'è Del bellissimo oro Che prendiamo Ok Carbone Me lo avanzo Per ora Ciao creeper Come stai Tutto bene Io avrei un po' di diamante Con me Gradirei se non scoppiassi Cosa ne dici Cosa ne dici Eh Anche te zombie Non chiamare i tuoi amici Magari Eh Potrebbe essere una bella idea Dai che è una bella idea Ok Perfetto Andiamo di qua Perché di là ho già visto Un altro creeper Giusto E' già sparito Vabbè Comunque avevo visto Un altro creeper Ve lo giuro Allora andiamo di qui E magari mangiamo Ok Mangiamo Molto bene E Dai io voglio trovare un po' di diamanti O un po' di Qualche minerale Ragazzi Un po' di qualche minerale Ecco Creeper stupido maledetto Creeper maledetto Ok Stiamo calmi Stiamo calmi Ok Stiamo calmi Cari creeper Possiamo andare d'accordo Allora Mettiamo un po' di torce Ok Prendiamo altre torce Uhuh Qua si scende Mi gusta la situazione Allora Prendiamo il ferro Un po' Ma giusto poco poco Carbone Che tra l'altro Potremmo anche cubitizzare Si Cominceremo a cubitizzarlo Allora Facciamo un paio di lavori Facciamo così Allora Tac Scusate Just a moment Please Si oggi parlo inglese Lo so ragazzi Non ci può spare niente Allora Ve lo giuro che non ho studiato Eh State tranquilli Non fatevi una brutta idea di me Allora Questa carota direi che la posso anche campare via Campare via Proprio Con cattiveria Allora Andiamo a cubitizzare il torc carbone Così appunto Occuperemo meno spazio Nel nostro inventario Tra un po' Cubitizziamo anche il diamante Giusto per fare gli spacconi Se anche la red strons Direi che si può Cubitizzare Perfetto Uhuh Si ne abbiamo un bel po' Ragazzi Direi che ne abbiamo un bel po' Ok Non so perché ho portato l'ascia nella caverna Forse ero convinto di trovare una miniera Ehm Ok Ah a proposito di miniera Credo che ci sia una miniera vicino alla giungla Perché con un glitch Quando ero là ho visto Che c'era appunto Sotto terra della miniera Ehm Comunque qua C'è Ehm Ho preso appunto il carbone Qua c'è la nostra carissima crafting table Che rompiamo E possiamo ripartire con l'esplodazione Perché con me non ho le torce Maledetto Ok Ehm Niente ragazzi Quindi adesso continuiamo Scendiamo un attimino giù di qua Perfetto Ehm Spero che finisca la caverna Ok L'ho detto E appunto è successo Ehm Direi che Prima di tornare indietro E ricominciare a esplorare l'altro lato Ehm Vado un secondo A farvi vedere in creativa Ehm La Tra virgolette Progettazione e costruzione Qua c'è l'altra caverna Sì ma è finita Beh comunque La raccolgo del carbone E ci vediamo tra poco In creativa Con appunto La farm di blades Ok ragazzi Rieccoci Questa qua è la farm di blades Ehm Non vi dirò che è un'idea mia Perché praticamente Ehm Utilizza lo stesso principio Della farm di enderman Quindi probabilmente Anzi sicuramente Qualche altro youtuber Qualche altro giocatore Avrà fatto questa farm Per chi non sa come funzionava La farm di enderman Funziona così Come vedete ci sono Dei repeater Dei Delle pursue plate Che appunto Noi andando qua Le attiviamo E attiviamo anche un pistone Che come vedete È posizionato in questa maniera qua È molto semplice Il meccanismo E come vedete Si spawnano Molti blades Quindi Diciamo che Principalmente L'obiettivo della farm È farne spawnare tanti E accumularli Io direi che ci sono idee migliori Tipo Fare un cilindro Molto lungo Perché i blades Almeno questo qua L'ho sentito su internet Ma sono sicuro che funziona Perché praticamente I blades Quando Non sono da soli Quando non ci siamo noi O comunque non li attacchiamo Loro non ci vedono Di natura Sono spenti E fanno questo fumo Che non li fa Flutturare in aria Vedete Solo quando noi Le andiamo a picchiare In creativa non Ah no Ecco vedete Quando noi Le andiamo a picchiare Si incendiano E E appunto Se ci vogliono attaccare Cominciano a salire E poi Cominciano anche a sparare E fanno dei casini Ragazzi Invece così Loro se ne stanno spenti E scenderanno giù Per il nostro cilindro E niente Questo cilindro Appunto Li accumulerà Tutti quanti in fondo Poi eventualmente Potremo mettere Come ho visto su internet Appunto Dei dispenser Carichi di lava La lava scenderà Farà luce E bloccherà il dungeon Occuperà posti Per lo spawn E li spingerà Tutti quanti Di sotto Più velocemente Anche E poi noi Appunto Potremo applicare Il nostro metodo Di auto killing Che ripeto Non so ancora qual è Ma Potremmo Farne vari E niente Questa cosa La family blades Direi che comunque Questo video È già venuto Abbastanza lungo E Finisco di prendere I materiali Che stavo raccogliendo E ci vediamo tra poco In casa Dove appunto Li smisteremo E vi saluterò Ok ragazzi Rieccoci C'era un bel creeper In casa E la cosa Mi fa abbastanza Incavolare Comunque Ho recolto Tutti i materiali Li ho messi A cuocere Ho ritrasformato Il nostro carbone Il nostro redstone Tutto quanto Qua prendo già Un paio di cosette Come vedete Perfetto Ok E vado già A smistarle Appunto Ho trasformato tutto Ho già messo Nello smistamento Come vedete Qua vi faccio vedere Che la roba dovrebbe No sta ancora andando Comunque qua ci sono Altre cose a smistare Ok Adesso partiranno Pian piano E si smistano tutte Ragazzi Io direi che comunque Per questo video è tutto Come al solito Vi ringrazio Poso tutta la roba E Nel prossimo video 99 su 100 Costruiremo Quella fantastica Farm di villager Quindi io come al solito Vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti